La stagione sportiva dell'Atletica Leggera Master 2022 entra nel vivo con le gare di corsa campestre. Dopo i campionati regionali di Canosa dello scorso weekend, in una giornata invernale, lo Corotondo ha ospitato domenica ai campionati regionali per assoluti e giovanili. Gli oltre 300 atleti di 67 società si sono dati battaglia nel centro sportivo Sportlandia. In collaborazione con Fidal Puglia nel rispetto delle norme anti-Covid, la manifestazione è stata organizzata dalla società alteratletica e dal direttore tecnico Antonio Petino. Oltre alle batterie dei master si sono svolte anche quelle delle categorie promesse a lievi cadetti ragazzi assoluti che hanno percorso distanze da 1.5 a 10 km su un percorso non facile con cambi di ritmo e direzione che hanno costretto gli atleti a vere e proprie acrobazie tecniche sullo sterrato fangoso e scivoloso a causa della pioggia. Apprezzati dagli spettatori, dagli allenatori ma soprattutto dagli atleti, gli ultimi 100 metri del percorso sulla pista della struttura Sportlandia. Da segnalare le ottime prestazioni cronometriche di Angelo Di Donna dell'Avis Molfetta, Viola Giustino dell'amatore atletica Acquaviva, Filomena Casaluce della nuova atletica Bitonto e Filippo Romano dell'amatore atletica Cisternino.